Le Fiamme Gialle di Frosinone hanno concluso un'operazione che ha consentito di scoprire una truffa ai danni della ASL di Frosinone, posta in essere da due società fornitrici di presidi protesici medici sanitari, una operante a Frosinone e l'altra in provincia di Isernia. In particolare le persone denunciate avrebbero istruito pratiche per forniture di assistenza protesica sulla base di certificazione medica falsa e fornito a diversi utenti di presidi protesici non corrispondenti a quelli prescritti ed oggetto di autorizzazione da parte della ASL di Frosinone. A seguito dell'acquisizione di documentazione presso gli uffici amministrativi dell'azienda sanitaria locale è stato eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti dei soggetti indagati a vario titolo, presso domicili e sedi delle società coinvolte. Nel corso dell'attività è stata rinvenuta documentazione informatica e cartacea ritenuta utile ai fini delle indagini. Il successivo esame delle pratiche relative alle istanze presentate per il rilascio di presidi sanitari necessari alla deambulazione dei richiedenti ha consentito di accertare che alle pratiche stesse erano state allegate certificazioni mediche ritenute false. Il profitto del reato supera i 350 mila euro. Tenuto conto che la commissione dei reati è stata rivolta nell'interesse o avvantaggio delle due società e constatato che le stesse non hanno predisposto un modello organizzativo finalizzato a prevenire la commissione di reati, è stata proposta l'adozione di misure cautelari reali. Il GIP del Tribunale di Frosinone pertanto ha emesso apposito decreto di sequestro preventivo fino a concorrenza del profitto della truffa.